80 anni da quel 28 dicembre 1943, quando Ortona, situata sulla linea Gustav, la Stalingrado d'Italia, venne liberata dopo una battaglia urbana che la trasformò in un cumulo di macerie e che fu decisiva per la liberazione dell'Italia dal nazifascismo. A questa importante data, particolarmente cara agli ortonesi, è dedicato un premio che viene conferito ai cittadini che si distinguono nel campo professionale, culturale, sociale, dando lustro alla città e promuovendone la conoscenza al di fuori dei confini comunali. Il premio 28 dicembre di quest'anno, rappresentato dalla scultura L'Alfiere di Walter Polleggioni, ha assunto un significato particolare ed è stato assegnato alla memoria della scrittrice ortonese Ada D'Adamo, prematuralmente scomparsa lo scorso aprile, vincitrice del premio Strega con il libro Comedaria e destinataria di altri prestigiosi riconoscimenti, come una menzione speciale al premio Campiello. Targa anche alla memoria del padre di Ada, il signor Franco D'Adamo, imprenditore e autore di una pagina importante del territorio e della comunità ortonese. La premiazione, che si è tenuta al Teatro Tosti ed è stata presentata dal direttore di Rete 8, Carmine Perantuono, si è aperta con la consegna degli attestati di merito agli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità con il massimo dei voti nell'anno scolastico 2022-2023 e agli studenti dell'Istituto Comprensivo Tosti che hanno vinto il progetto del Senato Testimoni dei Diritti. L'ottantesimo, logicamente, richiama tutti a quello che è accaduto ad Ortona, appunto, 80 anni fa. Quando Ortona è stata soprannominata come la piccola Stalingrado, perché qui ci fu una guerra atroce, casa per casa, strada per strada. 1.314 vittime civili che inconsapevolmente sono morti senza sapere il perché. 1.375 giovani canadesi venuti dal Canada per la nostra libertà e che giacciono qui presso il cimitero canadese a San Donato. Insomma, un momento veramente molto importante e noi abbiamo voluto ricordare, investire, esercitare quel valore della memoria che ormai esercitiamo da anni, quest'anno più degli altri anni. Ada ha nascosto la sua straordinarietà perché era una persona che si è sempre posto davanti alla vita e davanti al lavoro con estrema umiltà. Questo libro che ha scritto era comunque per lei un libro ancora non finito, non pensava, era in dubbio se pubblicarlo, se non pubblicarlo. Questo libro io l'ho scoperto nel momento in cui l'ha chiuso e quando l'ha finito e solo quando l'ha finito mi ha mandato una mail con un pdf. Io eravo in partenza quella sera per Napoli e mi ha detto mi farebbe piacere che tu leggessi questa cosa che ti ho mandato. Ed è quello il modo in cui io ho scoperto il libro. Grazie.